Servirà alla promozione turistica e culturale della città di Palermo nel mondo, ma avrà anche un risvolto commerciale e produttivo dato dalla vendita del merchandising creato ad hoc. È il city brand del capoluogo siciliano presentato stamane alla Villa Giulia di Palermo. Il progetto è stato messo a punto dall'assessorato Attività Produttive e Sviluppo Economico del Comune. Per vendere un prodotto, un servizio, un contenuto naturalmente è necessario avere un brand e da nove mesi è partito questo progetto che ha visto alla fine registrare il marchio al Ministero dell'Industria e del Commercio e tutto questo finalizzato a generare del business per la pubblica amministrazione. Il marchio identificativo della città sarà dunque la simbologia legata al cosiddetto genio di Palermo, considerato il protettore laico dei palermitani. Accanto alla corona e al serpente che lo identificano, il lettering panormus, dal nome che Romani diedero alla città dopo averla conquistata. Certamente si parte da un simbolo storico, da un simbolo che ha una forte connotazione locale e da uno studio fatto anche coinvolgendo degli storici palermitani e quindi ci è sembrato naturale scegliere l'immagine del Palermo, il genio di Palermo. È importantissimo munirsi di un city brand perché la sintesi di quelle che sono le attività sia all'interno che all'esterno del territorio, la volontà è quella di portare a più livelli tutte le attività e tutte le peculiarità di una città importante come Palermo in giro per il mondo che ha come obiettivo quello di fare comunque economia per la nostra città. Il genio di cui esistono diverse rappresentazioni a Palermo acquista adesso una nuova energia e diventa moderno portavoce della città con una curiosità legata alla veste grafica del lettering. Il genio di Palermo viene da una divinità etrusca, passata poi ai Romani, viene da generare. Quindi il genius è colui che genera, che produce. Ora, curiosamente, questo benedetto genio è diventato palermitano perché nei casi d'emergenza esce fuori. E mi pare che questo sia il momento giusto per ritirarlo fuori ancora una volta perché siamo nei guai. Poi la U di quel panormus, scritta con la U che è una V, questa è molto bella perché è legata ad un errore fatto da un mastro muratore quando fece l'ingresso principale di Villa Giulia. Il mastro muratore sbagliò e usò la U e la V invertendole. Quindi c'è un pubblica Villa Giulia con la V. Ora, questa cosa è piaciuta e di fatto il panormus è scritto con la U V. Grazie a tutti.